forse c'è troppa gente che amore non ne vuole e isa è caduta no vabbè sembra fatto apposta monica un commento chiesa rialtati mi sembra giusto sottolineare e l'aperol e il vino bianco mi sembra giusto no martedì sera ma è giusto io e la mia signorina siamo bene insieme